Buongiorno, io sono Alexandra, mia professione. E io sono la sua bimba. Come ti chiami? Victoria. E che classe fai? La seconda B. E oggi cosa prepariamo? La ciambella della nonna. La ciambella della nonna è la torta perfetta per fare colazione al mattino con un buono bicchiere di latte freddo. Gli ingredienti sono? Farina 300 grammi. Zucchero 300 grammi. Uova. Buongiorno, io sono Alexandra, mia professione. E io sono la sua bimba. E un tè tiepido e un pezzo di ciambella. E un caffè. E facciamo.